Ciao a tutti, se volete seguire le lezioni di cucina a casa vostra, da soli o in compagnia, con la guida di uno chef e preparare in meno di un'ora un piatto di alta cucina da gustare in famiglia o con amici, dal 19 febbraio su www.socialkitchen.it, dove la cucina è alla portata di tutti e in tutto il mondo, grazie a lezioni che si svolgeranno sul web in diretta streaming, io, Antonio Marchello, cucinerò insieme a voi e la spiegazione sarà interpretata in lingua dei segni. Vi spiego ora come funziona. Per seguire le lezioni di socialkitchen.it è necessario registrarsi al sito www.socialkitchen.it, fornendo chiaramente il proprio indirizzo e-mail. Si riceverà l'elenco degli ingredienti e dell'attrezzatura da avere a portata di mano al momento della lezione. Sarà poi sufficiente essere davanti a un computer, a un tablet o uno smartphone con connessione internet. A quel punto basterà collegarsi il mercoledì dalle 20 alle 21 al momento della diretta per entrare in cucina e seguire passo passo le varie fasi della preparazione. Una chat consente di porre domande in tempo reale o semplicemente di commentare o condividere i vari passaggi della ricetta con gli altri partecipanti. E non solo. Social Kitchen offre l'occasione per imparare a razionalizzare la spesa. Sono infatti già centinaia le interazioni che avvengono ogni settimana prima della lezione sulla pagina Facebook di socialkitchen.it. Lì i partecipanti si consultano con lo chef, con me o con altre persone, scambiano tra loro opinioni e suggerimenti su ingredienti e alternative possibili. Il servizio di interpretariato sarà fornito in collaborazione con Agnos, associazione interpreti di lingua di segna italiana. Vi aspettiamo numerosi. Ciao a tutti. Ci vediamo su socialkitchen.it. Grazie. 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 Grazie.